Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che è molto importante proprio perché riafferma con molta forza che c'è stato veramente una catastrofe iniziale della storia dell'uomo. Però prima di affrontare questo numero 390 voglio completare appunto il discorso sulla rivelazione che a noi è pervenuta sul peccato originale. Come abbiamo ribadito nel numero 388 e nel numero 389 il peccato originale era già noto nell'Antico Testamento. Il popolo di Dio nell'Antico Testamento ha conosciuto sia pure imperfettamente la condizione umana che è stata una condizione umana diciamo così paradisiaca quindi di integrità sul piano naturale e di elevazione sul piano soprannaturale. Il popolo dell'Antico Testamento ha conosciuto la caduta è chiaramente raccontata nel terzo capitolo del Genesi. Quindi il popolo dell'Antico Testamento ha interpretato la storia umana alla luce di questa caduta e quindi la presentata come una storia di perversione dell'umanità come vediamo dal capitolo terzo del Genesi fino al capitolo sesto dove si parla del dilunio universale. Dove Dio in qualche modo dice alla Bibbia si pentì di aver creato l'uomo per le perversioni che aveva compiuto. E' vero che la Bibbia, cari amici, parla soprattutto delle perversioni sul piano della violenza, vedi Caino che uccide a bene, o delle perversioni sul piano sessuale, vedi Sonoma e Gomorra, ma non è che i peccati consistono soltanto per quanto riguarda il quinto e il sesto comandamento. È l'insieme naturalmente dei peccati umani che contraddistingue la storia dell'umanità, cioè la storia dell'umanità è una storia di peccato. Questo ci dice il Vecchio Testamento. La storia dell'umanità è la storia del progredire del peccato. Tant'è vero che i profeti addirittura paragonano l'umanità e in particolare il popolo di Israele a una vergine che è diventata prostituta. Dove la prostituzione indica la frequentazione degli idoli e il rifiuto del Dio vero per seguire gli idoli dei popoli. C'è quindi questa visione della storia come un abbondare del peccato, ma nel medesimo tempo Israele conosce anche la fedeltà di Dio. Dio che è misericordia, Dio che aiuta, Dio che perdona. Conosce la preghiera di perdono dal profondo grido a te, oh Signore, Signore ascolta la mia voce. Conosce anche l'attesa della redenzione in quanto, prendiamo per esempio profeti come Geremia o come Zecchiele soprattutto, che parlano della effusione futura dello spirito, che scioglierà il cuore di pietra, che renderà gli uomini capaci di amare Dio. Quindi vedete che il popolo di Israele ha conosciuto la caduta, la perversione, ma anche la fedeltà di Dio, la sua misericordia, la sua promessa del riscatto dal peccato. Non si può quindi dire, come fa qualche d'uno, che il peccato originale è una creazione di San Paolo. È già ben chiaro il messaggio nel Vecchio Testamento. Tuttavia la gravità del peccato originale e di tutti i peccati personali, come abbiamo già accennato, è stata conosciuta dagli Apostoli, quindi dalla Chiesa Primitiva, soprattutto alla luce della passione di Cristo. Si sono chiesti agli Apostoli perché mai Cristo ha patito così tanto. Perché la sua sorte è stata quella che conosciamo, cioè la cattura, la flagellazione, l'incoronazione di spine, l'umiliazione, la crocevisione, la morte. Perché? Un tale itinerario di sofferenza. Pietro, fin dalla prima predica, dopo la Pentecoste, la risposta che naturalmente lui può dare nello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che convince il mondo di peccato, no? Pietro dice, Cristo ha patito per i nostri peccati, patì per i nostri peccati. Perciò, mettendo bene a fuoco tutto, concludiamo. Prima di affrontare un nuovo argomento, dicendo, il peccato originale si manifesta in tutta la sua gravità. Non solo il peccato originale, ma anche i peccati personali, il peccato del mondo potremmo chiamarlo. I peccati degli uomini, a partire da Adamo ed Eva, si manifesta in tutta la sua gravità, soprattutto con la passione di Cristo e con la comprensione di questa passione alla luce dello Spirito Santo, ma lo Spirito Santo già aveva rivelato al popolo di Israele e agli autori dei libri sacri la catastrofe delle origini e le conseguenze di questa catastrofe sulla storia umana. Questo è il rapporto, cari amici, per quanto riguarda il peccato originale tra la rivelazione del Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Possiamo dire quindi che il Nuovo Testamento, ancora una volta, completa, approfondisce e rivela, ma è nel medesimo tempo anche in una soluzione di continuità con il Vecchio Testamento. Ora, cari amici, mi preme spendere alcune parole su il numero 390, che è molto importante. E' molto importante perché oggi c'è un po' la tendenza a dire che tutti i primi capitoli del Genesi sono capitoli simbolici. Cioè, in pratica, quando si parla del peccato di Adamo ed Eva, si descriverebbe il peccato in sé, il peccato che fanno gli uomini. Si descriverebbe il peccato dell'uomo, che è un peccato di superbia e di disobbedienza, ma non si farebbe accenno a un fatto veramente accaduto alle origini. Insomma, ci sono degli autori che dicono che nei primi capitoli del Genesi in realtà si descrive il peccato così come lo fanno gli uomini. Il peccato così come lo fanno gli uomini, nella sua essenza, è sempre un peccato di superbia, è sempre un peccato di disobbedienza, ha sempre un elemento esterno che è la tentazione del serpente, del maligno, ha delle conseguenze gradi che sono la perdita della grazia e degli altri doni divini, quindi dell'amicizia con Dio e quindi tutte le conseguenze che conosciamo, la disperazione del cuore, eccetera, eccetera. Ora, cari amici, il Catechismo della Chiesa Cattolica nel numero 390 mette in guardia da queste interpretazioni puramente simboliche del capitolo del Genesi. Certamente, nel Genesi viene descritto il peccato nella sua essenza, è vero. Nella sua essenza il peccato è sempre disobbedienza a Dio, è sempre disobbedienza e superbia. È vero, il peccato dell'uomo ha anche normalmente un agente esterno che è il maligno, è vero. Le conseguenze del peccato sono la perdita della grazia, dell'amicizia con Dio, un procedere verso la disperazione. È vero tutto questo. Ma questo non toglie affatto che all'inizio ci sia stata questa catastrofe. anzi, credere che all'inizio della storia dell'umanità la prima coppia sia stata autrice di questa catastrofe e quindi che il libro del Genesi parli di avvenimenti veramente accaduti, questo fa parte della fede cristiana. Vediamo dunque questo importantissimo numero 390 che dice Il racconto della caduta, cioè Genesi 3, utilizza un linguaggio di immagini ma espone un avvenimento primordiale, un fatto che è accaduto all'inizio della storia dell'uomo. La rivelazione ci dà la certezza di fede che tutta la storia umana è segnata dalla colpa originale liberamente commessa dai nostri progenitori. In questo numero, cari amici, si fanno due affermazioni importantissime. Prima affermazione, la caduta della prima coppia, cioè di Adamo ed Eva, Adamo ed Eva sono due nomi, diciamo così, che hanno un valore non di nome proprio ma un valore di nome comune. Quindi non ci fermeremo sul nome. Non è il nome che è importante. L'importante è sapere se c'è stata una prima coppia e se questa prima coppia ha commesso un peccato. Bene. Quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica è molto chiaro. E cioè, il racconto della caduta utilizza un linguaggio di immagini ma espone un avvenimento primordiale, un fatto che è accaduto all'inizio della storia dell'uomo. E qui il Catechismo cita veramente il Concilio di Trento oltre che Pio XII, l'Umane Generis e Paolo VI che ribadiscono che il peccato originale è un avvenimento veramente accaduto. In poche parole, il libro del Genesi non descrive soltanto il peccato in sé stesso, il peccato dell'uomo, ma descrive quel peccato delle origini commesso da Adamo e Deva nel quale peccato delle origini commesso da Adamo e Deva si specchiano tutti i peccati degli uomini. Quindi siamo di fronte dice il Catechismo a un avvenimento primordiale a un fatto che è accaduto all'inizio della storia dell'uomo per cui non si può negare perché si andrebbe contro il Magistero della Chiesa non si può negare che c'è stata questa catastrofe iniziale. Certamente, cari amici, di questa catastrofe iniziale noi non abbiamo le prove sperimentalmente verificabili. Non abbiamo trovato una lettera sepolta sotto qualche albero scritta da Adamo e Deva in cui ci raccontavano quello che loro avevano fatto o detto. Non abbiamo nulla sotto il profilo sperimentale che ci testimoni questo. D'altra parte se è vero come pare che gli uomini hanno incominciato ad esistere un milione di anni fa è chiaro che anche una tradizione orale sarebbe quantomai difficile viste le vicissitudini dell'umanità. perciò noi non possiamo avere una sicurezza razionale empirica dimostrabile di questa catastrofe iniziale. Allora come facciamo a saperlo? Come facciamo a saperlo che Adamo e Deva costituiti in grazia in amicizia con Dio hanno in pratica scelto una via autonoma anzi una via di dipendenza dal demonio compromettendo tutta la storia dell'umanità? Come facciamo a saperlo? Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo cari amici attraverso non le vie naturali ma attraverso la via soprannaturale cioè ce lo ha rivelato lo Spirito Santo e come ce lo ha rivelato lo Spirito Santo? Lo ha rivelato al popolo di Israele lo ha rivelato gli autori biblici lo ha rivelato Gesù Cristo lo ha rivelato il collegio apostolico in particolare San Paolo nella Lettera ai Romani ma anche in altre lettere ha approfondito profondamente il tema del peccato originale D'altra parte voi dite ma Gesù Cristo dov'è che ha parlato del peccato originale? Ma Gesù Cristo ha parlato del peccato originale laddove si è presentato come il Redentore tutte le volte che Gesù dice che lui ha dato la sua vita in riscatto per molti quando lui esprime la necessità che lui deve soffrire patire e morire per riscattare la moltitudine tutto questo indica appunto la consapevolezza che Cristo sa benissimo di dover soffrire per redimere per riscattare il mondo per cui questa è la prima affermazione profonda che va che fa parte della fede e cioè che veramente c'è stata questa catastrofe delle origini punto primo punto secondo questa catastrofe delle origini è nota a noi per la luce che ci viene dallo Spirito Santo lo Spirito Santo ha rivelato alla comunità del popolo di Israele e gli autori sacri gradualmente ma sempre più profondamente questa catastrofe iniziale e le sue conseguenze ma e soprattutto nel Nuovo Testamento dove lo Spirito Santo ci convince di peccato che emerge appunto la funzione di Cristo di Redentore e come dirà Paolo di nuovo Adamo per cui grazie a Cristo laddove ha abbondato il peccato sovrabbonda la grazia ecco quindi messa in luce cari amici la chiave di interpretazione dei primi capitoli del Genesi siamo certamente di fronte a un linguaggio poetico siamo certamente di fronte a un linguaggio pieno di immagini ma come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica questo linguaggio poetico questo linguaggio pieno di immagini fa riferimento a un avvenimento primordiale che è accaduto all'inizio della storia dell'uomo questo avvenimento primordiale che è accaduto all'inizio della storia dell'uomo non è conoscibile per via razionale lo conosciamo per rivelazione soprannaturale poche parole Dio ci ha rivelato quello che è successo alla prima copia siccome Dio non inganna e non può ingannare noi siamo certi appunto di questa verità che appartiene alla fede il peccato originale è una verità essenziale alla fede senza la quale non comprenderemmo la redenzione non comprenderemmo da che cosa Cristo ci avrebbe salvato ecco con questo caramici abbiamo completato il quadro introduttivo riguardante appunto la nozione stessa di peccato che è piuttosto superficiale nelle altre religioni ma è centrale nel cristianesimo il peccato che ha le radici nell'abuso che l'uomo fa dalla sua libertà che ha una tale vastità dirompenda e distruttiva da esigere un così grande redentore peccato che purtroppo è esploso all'inizio della storia dell'umanità e l'ha segnata ma tuttavia noi siamo entrati nella storia dell'umanità nella quale siamo sotto il segno della redenzione quindi se parliamo del peccato che dice per parlare della medicina che guarisce il peccato e che è la grazia se parliamo del vecchio Adamo è per comprendere meglio la grandezza del nuovo Adamo Cristo Gesù nel quale siamo redenti nel quale siamo di nuovo figli di Dio nel quale siamo ristabiliti in grazia e in amicizia con Dio gloria 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 Siamo arrivati, cari amici, al numero 391, col quale apriamo un nuovo capitolo. Abbiamo parlato, cari amici, del concetto di peccato che Dio ci ha rivelato e abbiamo colto il peccato nella sua profonda identità, cioè come rifiuto e opposizione a Dio. E abbiamo appunto affermato che questo rifiuto, questa opposizione a Dio, è incominciata molto presto nella storia dell'umanità, incominciata addirittura con i nostri progenitori. E abbiamo detto che l'affermazione del peccato originale è una verità essenziale della fede senza la quale non comprenderemo neanche la redenzione. E quindi l'autorina del peccato originale è il rovescio della buona novella che Gesù è il Salvatore di tutti gli uomini. Però poi naturalmente il Catechismo ci introdurrà nell'approfondimento di quello che è il primo peccato degli uomini e quelle che sono state le conseguenze del peccato originale per la storia dell'umanità. Prima però, giustamente, il Catechismo apre uno scenario su un peccato ancora precedente, quello degli uomini. Infatti l'uomo non è l'unica creatura libera e razionale che esista. Abbiamo visto nel capitolo sulla creazione che Dio ha creato non soltanto le realtà visibili e anche le realtà invisibili. Dio ha creato anche gli angeli. Gli angeli sono esseri intelligenti. Gli angeli hanno quindi una intelligenza, gli angeli hanno una libertà, gli angeli hanno una capacità decisionale e quindi è assolutamente conforme alla natura dell'angelo esercitare la sua libertà. E noi abbiamo visto questo nei capitoli del Catechismo dove, per esempio, il numero 328 e 329 si dice appunto che gli angeli si afferma l'esistenza di essere spirituali, incorporei, che la Sacra Scrittura chiama abitualmente angeli. E cercando di approfondire nel numero 329 la natura dell'angelo, il Catechismo dice che l'angelo è puro spirito. E puro spirito, e quindi poi nel numero 330 diceva in quanto esseri puramente spirituali essi hanno intelligenza e volontà. Sono creature personali e immortali. Superano un'imperfezione tutte le creature visibili. Lo testimoni il fulgore della loro gloria. Quindi a noi interessa mettere in evidenza, quindi, cari amici, questa esistenza di fede, una verità di fede, di creature spirituali che hanno intelligenza e volontà. Tutto questo va messo in luce per comprendere questa serie di paragrafi molto profondi dal 391 al 395 che parla della caduta degli angeli. In pratica il Catechismo della Chiesa Cattolica seguendo appunto la Bibbia ci spiega che il male nel mondo ha all'origine delle libere decisioni. Il male nel mondo ha all'origine una libera decisione degli uomini ma più a monte ancora il male nel mondo ha come origine una libera decisione degli angeli ribelli. Anzi, il Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea con molta forza che Dio non ha creato il demonio. Dio ha creato l'angelo buono. Il demonio è diventato tale per sua libera scelta. Quindi il demonio è certamente una creatura e questa è la risposta biblica a certe concezioni religiose che erano condivise da alcuni popoli confinanti con Israele che esistesse una specie di Dio del male quindi una specie di male con connotazioni divine eterne, infinite, onnipotenti. Ebbene, la risposta della fede è questa che il demonio è una creatura ma che non è stata creata da Dio in quanto demonio è una creatura che è stata creata da Dio in quanto angelo una creatura spirituale libera intelligente che è diventata demonio per scelta propria in quanto è retta una opposizione un rifiuto radicale e la sua dipendenza da Dio. allora vediamo innanzitutto il numero 391 del Catechismo della Chiesa Cattolica che dice dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori c'è una voce seduttrice che si oppone a Dio la quale per invidia li fa cadere nella morte la scrittura e la tradizione della Chiesa vedono in questo essere un angelo caduto chiamato Satana o Diavolo la Chiesa insegna che all'inizio era un angelo buono creato da Dio adesso qui cari amici c'è una citazione in latino dal concilio lateranense quarto che poi viene tradotta vi leggo prima il testo latino e cioè il diavolo infatti e gli altri demoni sono stati creati da Dio naturalmente buoni ma da se stessi si sono trasformati in malvagi dunque cari amici vediamo di approfondire questo numero del Catechismo della Chiesa Cattolica che ci aiuta anche a comprendere a mio parere la reale portata del peccato dei progenitori dice il Catechismo dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori c'è una voce seduttrice che si oppone a Dio la quale per invidia li fa cadere nella morte e chiaramente questo è espresso nel libro del Genesi al capitolo terzo dei versetti 1 e 5 e anche dal libro della Sapienza al capitolo secondo al versetto 24 c'è quindi cari amici se se vogliamo guardare da questo punto di vista anche una attenuante per quanto riguarda il peccato originale di Adamo ed Eva c'è un attenuante dovuta al fatto che Adamo ed Eva si sono autodeterminati per il male perché spinti da una voce seduttrice che si oppone a Dio la quale per invidia li fa cadere nella morte ora certamente cari amici questa questa presenza ci aiuta anche a capire e a dare una risposta che molti di voi mi hanno rivolto anche per iscritto ma che comunque sorge spontanea e cioè come mai Adamo ed Eva così perfetti così elevati in grazia anche se non ancora confermati in grazia ma elevati in grazia coi doni che conosciamo in modo particolare col dono della sapienza e comunque con una forte esperienza dell'amore di Dio nella loro vita come mai hanno potuto peccare intanto diciamo che la ravice del peccato di Adamo ed Eva consiste nel fatto che essi dotati di libertà erano comunque sempre nella condizione di poter optare o per Dio o contro Dio quindi la ravice del peccato parte sempre dalla possibilità che c'è nella creatura razionale angelo un uomo che sia di scegliere per il bene o per il male quindi mentre quando siamo in cielo la nostra libertà è confermata in grazia cioè è talmente orientata al bene che dal bene non si distoglie no non per l'impossibilità ma per per volontà intima perché il bene in se stesso è affascinante e attira naturalmente la creatura umana attira la sua mente attira la sua volontà in cielo il bene sarà così evidente in quanto vedremo Dio faccia a faccia che non sarà possibile alla mente equivocare su ciò che è bene e ciò che è male e non sarà possibile alla volontà che è appetito di bene scegliere il male al posto del bene ma Adamo e Deva per quanto è elevato in grazia per quanto dotati di doni straordinari in modo particolare il dono della sapienza e tuttavia non godevano ancora della visione beatifica di Dio e quindi potevano certamente con la loro mente valutare male e quindi come spesso succeda a noi rimanere sedotti scambiare il male scambiare il male come se fosse un bene e il bene come se fosse un male quindi di fronte a questo sbaglio di valutazione potevano anche fare scelte scelte che sappiamo sono state deleterie per loro e per noi ma oltre a questa possibilità intrinseca che Adamo e Deva avevano nella condizione originaria di peccare in quanto non ancora nella visione beatifica tuttavia c'è anche un agente esterno ecco molti di voi chiedono ma come mai come ha fatto Adamo e Deva dotati di così grandi doni di grazia a peccare non bisogna dimenticare l'agente esterno la forza seduttrice del serpente questo aspetto del peccato originale va tenuto in dovuta considerazione perché è un elemento fondamentale che appare nel terzo capitolo del Genesi nel momento della tentazione quando la prima copia è caduta e che appare con con le medesime finalità cioè suonando la medesima musica quando Cristo nel deserto inizia la sua missione quindi noi vediamo che nell'affresco biblico del vecchio Adamo o del primo Adamo c'è la presenza seduttrice del serpente come nell'affresco del nuovo Adamo Cristo che inizia la missione riventrice c'è la presenza seduttrice del serpente questo ci aiuta a capire per quale motivo la prima copia è caduta è caduta certamente perché è stata sedotta ma questo ci aiuta anche a capire da quale da chi ci ha liberato Cristo e cioè dal seduttore il quale per invidia ci ha fatto cadere nella morte non si può parlare quindi cari amici in modo completo del dramma della catastrofe originaria ne si può parlare completamente della redenzione senza cogliere questa misteriosa presenza questa presenza negativa il catechismo dice dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori quindi c'è c'è stata certamente questa spinta dall'esterno cioè la scelta disobbediente dei nostri progenitori non è stata un'autodeterminazione diciamo così assoluta assolutamente imputabile ai nostri progenitori come se fosse dipesa tutta da loro diciamo che vi sono stati spinti c'è stata un'attività seduttrice nei loro confronti cioè c'è stato un incitamento al male certo Adamo e Deva hanno commesso il peccato per loro libera scelta ne sono completamente colpevoli responsabili davanti a Dio ma noi vediamo che la responsabilità del serpente è tenuta in conto da Dio infatti quando vengono combinate le pene ai due progenitori una pena più grave verrà combinata al serpente al quale si dice porrò inemicizia fra te e la donna fra la sua stirpe e la stirpe della donna ti schiaccerà la testa quindi in questa profezia in cui viene in cui viene appunto prevista la punizione del serpente si intende evidenziare anche una sua responsabilità ben precisa nella catastrofe originaria quindi dietro la scelta disobbediente c'è questa presenza questa presenza il catechismo la chiama voce seduttrice è molto importante noi evidentemente siamo molto legati alla rappresentazione simbolica del serpente in poche parole il serpente viene rappresentato come cioè satana viene rappresentato come il serpente nel libro del genio non si parla di satana si parla del serpente poi il libro della sapienza che ci dice appunto che quel serpente era il diavolo il diavolo che per invidia ha spinto al male il catechismo della chiesa cattolica qui in qualche modo insinua che questo serpente in realtà era una voce seduttrice quindi non è necessario cari amici pensare che Adamo e Deva avevano parlato con un serpente probabilmente siamo nel campo del simbolo cosa simbolizza questo serpente questo serpente simbolizza la presenza di satana ma attenzione cari amici com'è che satana ha agito su Adamo e Deva satana ha agito su Adamo e Deva esattamente come agisce nei nostri confronti quando ci spinge al male in che modo satana agisce nei nostri confronti quando ci spinge al male in che modo agisce come voce seduttrice si insinua nella nostra mente si insinua nel nostro cuore è vero o non è vero guardiamo un po' la psicologia della tentazione qui la bibbia la presenta oggettivandola nella figura del serpente ma il catechismo quando parla di voce seduttrice va più a fondo ci fa vedere come in realtà satana opera ha operato in Adamo e Deva e opera con noi come voce seduttrice ma perché allora viene usata l'immagine del serpente perché è molto adatta infatti questa voce seduttrice si insinua nel nostro cuore esattamente strisciando silenziosamente astutamente perversamente come un serpente infatti se ci facciamo caso la voce seduttrice in noi che ci incida al male si insinua silenziosamente in noi come un serpente sibila alle orecchie del cuore e cosa sibila sibila sempre le solite parole ma chi ti ha detto che quella è la legge di Dio ma chi ti ha detto che quello è male ma non è vero che è male quello quello è bene però vedrai che felicità perché ti sottometti a Dio ma non c'è neanche Dio ma Dio è tuo nemico io ti do la felicità il sibilo del serpente e la voce seduttrice che sibila le orecchie del cuore quindi non è necessario cari amici al dogma della fede pensare che Adamo e Eva parlassero con un serpente e il catechismo della chiesa cattolica invece ci fa capire che la tentazione salì nel cuore di Eva come un serpente si bilò alle orecchie del suo cuore le insinuò che il comando di Dio era una truffa anzi che se avessero mangiato di quell'albero della conoscenza del bene e del male sarebbero diventati come Dio ecco la tentazione che si insinua come un serpente nel cuore di Eva e sibila le sue orecchie lei ascolta questa voce seduttrice e si fa portavoce di questa voce seduttrice presso Adamo e quindi è qui mirabilmente espressa la psicologia della tentazione non di tentazione cari amici noi sentiamo il sibilo del serpente e cioè la sua voce seduttrice questa voce seduttrice menzognera parla alle orecchie del cuore perché noi la chiamiamo seduttrice perché ci seduce presentandoci il male sotto forma di bene ci presenta la disobbedienza a Dio come via alla felicità e noi ne siamo sedotti quindi quell'esperienza che fece Eva e con lei Adamo quella esperienza la facciamo anche noi anche a noi nella tentazione si presenta il serpe il serpe che molte volte naturalmente l'imbeccata è sempre esterna è una lettura un discorso un amico un programma televisivo quello che volete voi ma poi tutto questo si insinua nel cuore come voce seduttrice che ci vuol convincere a fare il male come se esso fosse un bene per noi ci vuol convincere che la ribellione a Dio è la via per la nostra felicità voce seduttrice che dice il catechismo si oppone a Dio difatti questa voce del serpente seduttrice sempre ci porta o a negare Dio o a negare la sua legge o a negare i rappresentanti di Dio o a negare le disposizioni le leggi della Chiesa sempre la voce del serpente ci induce al male con somma astuzia presentandocelo come un bene ma sempre con l'obiettivo di distoglierci da Dio perché perché distogliendoci da Dio ci fa suoi dice per invidia certo perché noi siamo di Dio siamo nella sua luce siamo nella sua pace siamo sulla via della felicità lui ha perso tutto questo ha perso Dio ha perso la verità ha perso la luce per invidia ci distoglie da Dio ci fa suoi per darci la sua morte ecco abbiamo spiegato questo primo paragrafo del numero 391 nel prossimo appuntamento proseguiremo nel mettere in luce questa voce sedutrice che si oppone a Dio la quale per invidia ha fatto cadere nella morte e fa cadere anche noi ha fatto cadere nella morte i nostri progenitori e fa purtroppo cadere anche noi gloria 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 La gloria e l'alto del Cere, le voce in te l'orlo di me, mi cura l'amorà. Stiamo cari amici spiegando il numero 391 e abbiamo cominciato a ricostruire i passaggi fondamentali della catastrofe iniziale. Questa catastrofe iniziale che non è iniziata con la caduta di Adamo ed Eva ma con la caduta degli angeli. Abbiamo visto cari amici che quando Adamo ed Eva si trovavano nel paradiso terrestre c'era già una presenza di male. Quindi esisteva già il male. Questa presenza di male è simboleggiata dal serpente. Il serpente che secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 391 in realtà era Satana e cioè una voce seduttrice che si è insinuata nel cuore di Eva e successivamente nel cuore di Adamo invitandoli a opporsi a Dio. Quindi c'è con evidenza questa presenza di male già all'inizio della storia dell'umanità. Vi dicevo che non è necessario pensare che Adamo ed Eva abbiano parlato col serpente. È molto più concreto pensare che il colloquio di Adamo ed Eva col serpente sia avvenuto nel medesimo modo con cui avviene il nostro colloquio col serpente, con Satana. Come avviene il nostro colloquio nel momento della tentazione col serpente e con Satana? Questo nostro colloquio col serpente e con Satana avviene quando si insinua nel nostro cuore la voce che ci spinge a disubitire i comandamenti di Dio. Una voce, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è seduttrice e cioè in poche parole ci presenta la via della disobbedienza ai comandamenti di Dio come la via della nostra felicità. Ed è naturalmente un grande inganno perché noi tutti abbiamo sperimentato come la via della disobbedienza ai comandamenti di Dio sia la via della nostra delusione, della nostra disperazione, della nostra scontentezza comunque. Mentre sappiamo che la via che ci è indicata Dio, la via dell'obbedienza ai suoi comandamenti, è la via che realizza in noi la pace, la serenità, la felicità, la contentezza. Quindi Adamo ed Eva verosimilmente hanno avuto la tentazione così come l'abbiamo noi, cioè con la voce del serpente che ha sibilato alle orecchie del cuore invitandoli a opporsi a Dio, a disubbedire a Dio. Perché se avessero disubbedito a Dio avrebbero realizzato qualcosa di sovrumano, sarebbero diventati essi stessi come Dio. In pratica il serpente ha invitato Adamo ed Eva ad essere loro a decidere ciò che è bene e ciò che è male. E la tentazione perenne del serpente, quella tentazione che si vila anche nelle orecchie del cuore dell'uomo moderno. Anzi l'uomo moderno ripropone il peccato originale, il medesimo peccato nella sua essenza. L'uomo moderno che vuole essere lui, colui che stabilisce la legge di comportamento, colui che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male. Non colui che lo prende da Dio, ma lui stesso decide liberamente ciò che è bene e ciò che è male. Naturalmente decide che è bene ciò che soddisfa le sue passioni e decide che è male ciò che mortifica le sue passioni. Noi vediamo tranquillamente gli uomini d'oggi anche attraverso i mass media più popolari e fare gli elogi, diciamo così, dell'omicidio sotto forma di autodeterminazione della donna per quanto riguarda l'aborto. Oppure l'elogio della lussuria, l'elogio dell'adulterio e così via, sono le persone che, avendo ascoltato Satana, se ne fanno portavoce. Sono i portavoce della voce seduttrice che fin dall'inizio ha insidiato l'uomo. Ora, cari amici, quello che mi preme dire però, perché analizzeremo più avanti poi la psicologia della tentazione e quindi il dramma della caduta di Adamo e Deva. Quello che preme noi però adesso è affermare che già nel paradiso terrestre c'è questa voce seduttrice, c'è già la presenza del male. Quindi il male è incominciato prima. Quando è incominciato il male? Non certamente quando Dio ha creato gli angeli. Abbiamo detto che gli angeli sono stati creati per Dio come puri spiriti dotati di intelligenza e di libertà. Quindi la creazione dell'uomo è stata preceduta dalla creazione degli angeli. Ma dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che, siamo sempre al numero 391, il diavolo e gli altri demoni sono stati creati da Dio naturalmente buoni. Quindi, attenzione che l'origine del male non è iniziata con la creazione degli angeli. Perché Dio ha creato questi puri spiriti dotati di intelligenza e dotati di libertà, Dio le ha creati naturalmente buoni. Quando quindi, cari amici, è incominciato il male? Il male è incominciato per una libera decisione di alcuni angeli, che noi chiamiamo gli angeli ribelli, i quali, opponendosi a Dio, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, da se stessi si sono trasformati in malvagi. Quindi, il male è nato per una libera decisione della creatura angelica, innanzitutto, la quale, opponendosi a Dio, ha trasformato se stessa, creata naturalmente buona, ha trasformato se stessa in malvagia. Quindi, attenzione, Dio non ha creato i diavoli, Dio non ha creato i demoni. Tutto ciò che Dio ha creato è buono, naturalmente buono, intrinsecamente buono. Il diavolo, prima di trasformarsi in un essere malvagio, era un essere naturalmente buono, che per sua decisione si è trasformato in malvagio. Quindi, qual è l'origine del male? L'origine del male è la libertà creata, sia angelica, sia umana, la quale, per libera decisione, si oppone a Dio. Questa è l'origine del male, di tutto il male. Quello morale e poi, conseguentemente, è anche quello fisico. Ora, vediamo se questo insegnamento dalla Chiesa, autorrevolmente affermato dai concili, noi abbiamo citato il concilio Lateramense IV del 1215, appunto questo concilio dice, riassumendo una lunga tradizione di insegnamento, dice che il diavolo e gli altri demoni sono stati creati da Dio naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in malvagi. Ora, vediamo, cari amici, come e in che modo è avvenuta questa catastrofe precedente al peccato di Adamo ed Eva. è quanto mette in luce il numero 392 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice, la scrittura parla di un peccato di questi angeli. Tale caduta consiste nell'avere questi spiriti creati con libera scelta, radicalmente e irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo regno. Troviamo un riflesso di questa ribellione nelle parole rivolte dal tentatore ai nostri progenitori. Diventerete come Dio. Genesi 3,5. Poi anche l'espressione della prima lettera di Giovanni al 3,8, dove si dice, il diavolo è peccatore fin dal principio. E poi, quanto dice Gesù, riportato nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, al versetto 44, il diavolo è il padre della menzogna. Quindi, cari amici, questo insegnamento, diciamo così, della caduta degli angeli, è un insegnamento che certamente ha ormai raggiunto, per quanto riguarda la consapevolezza del Magisterio Ecclesiastico, una certezza assoluta, tanto da essere proposto anche nei concili. No, ma quello che vorremmo sottolineare è che comunque tracce di questa caduta degli angeli ci sono anche nella Sacra Scrittura. Noi non abbiamo molte tracce, per la verità, nella Sacra Scrittura della caduta degli angeli. Non ci sono moltissime tracce, però il Catechismo della Chiesa Cattolica cita la seconda lettera di Pietro al capitolo 2, al versetto 4. Io appunto vorrei leggervi questo passaggio della seconda lettera di Pietro dove si parla appunto del peccato iniziale degli angeli. Vediamo tutto il brano per averne una visione chiara. Siamo nella seconda lettera di Pietro al capitolo 2. Incomincio a leggervi dal versetto 1 che dice Ci sono stati anche falsi profeti fra il popolo come pure ci saranno in mezzo a voi falsi maestri che introdurranno eresie perniciose rinnegando il Signore che li ha riscattati e attirandosi una pronta rovina. molti seguiranno le loro dissolutezze e per colpa loro la via della verità sarà coperta di improperi. Nella loro cupidigia sfrutteranno con parole false ma la loro condanna è già da tempo all'opera e la loro rovina è inaguato. Quindi Pietro qui parla che purtroppo c'è una costante una presenza costante nella storia della Chiesa che è quella dei falsi profeti ma che Dio condannerà e invierà in rovina. Allora per spiegare questa punizione che Dio riserva ai falsi profeti che cercano di sedurre i fedeli del popolo di Dio Pietro porta l'esempio di come Dio una volta punì gli angeli ecco come una volta Dio punì gli angeli ribelli oggi punirà i falsi profeti che cercano di sedurre il popolo di Dio. Dice infatti Pietro al versetto 4 Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno servandoli per il giudizio non risparmiò il mondo antico ma tuttavia con altri sette salvò Noè banditore di giustizia eccetera 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 condannò la distruzione nelle città di Solomé e Gomorra eccetera eccetera quindi mostra come Dio non risparmia il peccato degli uomini e appunto per per argomentare no? per dar forza suo argomento che Dio non risparmiò i peccati degli uomini cita ad esempio il fatto che Dio non risparmiò il peccato degli angeli ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno servandoli per il giudizio naturalmente si parla qui del giudizio universale quindi giustamente il catechismo dice che la scrittura stessa parla di un peccato di questi angeli quindi per quanto riguarda il peccato degli angeli ribelli di questa catastrofe iniziale abbiamo un'affermazione chiarissima nella scrittura è un'affermazione di Pietro che in questo il quale sta scrivendo una lettera ecumenica a tutte le chiese a tutte le comunità cristiane dalla prima generazione e dalla lettera dal modo con cui Pietro l'argomenta appare chiaro che era fede comune era conosciuta questa verità di fede delle comunità cristiane che Dio punì gli angeli ribelli per il loro peccato iniziale ora in che cosa consiste questo peccato iniziale degli angeli ribelli e non è facile cari amici questo a stabilirlo come non è facile stabilire in che cosa consistente il peccato di Adamo ed Eva sappiamo che la forma cioè l'essenza di questo peccato fu la superbia e la disobbedienza ma la materia concreta di questo peccato non la conosciamo comeppure non sappiamo la forma l'essenza del peccato degli angeli che consiste nel rifiutare Dio nel voler essere loro al posto di Dio ma poi l'oggetto concreto di questo rifiuto non lo conosciamo ci sono molte ipotesi teologiche proposte da mistici proposte ma teologi alcuni affermano che Lucifero gli angeli ribelli avrebbero rifiutato il progetto che Dio presentò loro dall'incarnazione altri per esempio dei mistici mariani come suor Maria Gesù de Agreda nella sua famosa epopea nel suo famoso libro la mistica città di Dio afferma che il rifiuto di Lucifero si riguarda non soltanto l'incarnazione ma anche il fatto che la madre del Messia avrebbe dovuto diventare regina degli angeli eccetera le ipotesi sono ipotesi cari amici sono molte noi sappiamo l'essenza di questo peccato la conosciamo l'essenza di questo peccato dai testi che vengono citati successivamente e anche dal modo con cui il serpente si avvicinava ad Amo e Deva dicendo sarete simili a Dio no? ebbene cari amici l'essenza di questo peccato è certamente la superbia che perse Lucifero e i suoi adepti e questo medesimo veleno che poi Lucifero inoculò in Adamo e Deva dunque vediamo quindi la caduta è accertata dalla Bibbia in che cosa consistente questo peccato lo sappiamo quanto la forma cioè l'essenza del peccato la superbia l'oggetto concreto del peccato è oggetto soltanto di ipotesi teologica dice il Catechismo tale caduta consiste nell'avere questi spiriti creati con libera scelta radicalmente e irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo regno quindi si tratta di un peccato radicale irrevocabile di superbia attenzione cari amici che la natura stessa dell'angelo essendo esso puro spirito consente scelte radicali e irrevocabili scelte totali scelte assolute cosa che non è possibile agli uomini gli uomini prima di arrivare a una scelta radicale assoluta non so prima di arrivare gli uomini all'indurimento del cuore e alla impenitenza finale hanno bisogno di fare tanti peccati e pervenire a una radicalizzazione a un indurimento nel peccato e questo è vero anche per il bene cioè gli uomini prima di arrivare a essere costituiti in grazia e radicati in modo irrevocabile nel bene hanno bisogno di una scelta lunga sofferta del bene finché la loro libertà si radicalizza nel bene in poche parole la libertà umana non è una libertà diciamo così che si autodetermina in un modo totale perché? perché è radicata in un corpo e quindi essendo la libertà essendo l'anima umana radicata in un corpo l'uomo è capace solo di scelte di scelte parziali e successive quindi l'uomo diventa cattivo pian piano attraverso scelte successive e diventa buono pian piano attraverso scelte successive non così l'angelo che non avendo un corpo ed essendo puro spirito è capace di una scelta che sia totale irrevocabile è capace di decidere di sé totalmente senza ritorno sia per il bene sia per il male e gli spiriti angelici sottoposti alla prova alcuni hanno autodeterminato se stessi radicalmente e irrevocabilmente per Dio altri hanno autodeterminati se stessi radicalmente e irrevocabilmente contro Dio quindi hanno quindi all'angelo è bastato un solo peccato come un solo atto di virtù perché tale è la natura angelica da potersi autodeterminare totalmente con un solo atto o di vizio o di virtù ora noi troviamo il riflesso di questo rifiuto di Dio nelle stesse parole rivolte dal tentatore ai nostri progenitori diventerete come Dio cioè il tentatore cosa tenta qual è il veleno che inietta il serpente nel cuore di Adamo ed Eva inietta il rifiuto di Dio inietta qualcosa che è suo Satana si è autocostituito autodeterminato nell'opposizione a Dio nel rifiuto a Dio questo veleno lo inietta in Adamo ed Eva quindi noi sappiamo che questa caduta è un'autodeterminazione contro Dio e lo vediamo da come il serpente tenta Adamo ed Eva insinua loro di diventare come Dio e di diventare come Dio disubbidendo a Dio d'altra parte che l'affermazione secondo cui il diavolo ha peccato fin dall'inizio Santo Maso parla a questo riguardo di due istanti il primo istante gli angeli sono creati nel secondo istante sono creati ed elevati in grazia nel secondo istante sono caduti quindi fin dal principio il diavolo è peccatore del padre della menzogna ma comunque cari amici su questa specificazione del peccato degli angeli proseguiremo nel prossimo appuntamento qui Radio Maria abbiamo trasmesso Catechismo della Chiesa Cattolica a cura di Padre Livio Gloria 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 Rinaldo in Ceri Vivo Centro al Cominio Vi Tola Volontà Gloria 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 Grazie a tutti.